questa è la partenza della serie due ragazzi primo anno cinquanta d'orso tra poco nuoteranno gli atleti della serie uno Francesco Penso Mirano in prima corsia Massimiliano Matteazzi nuoto Vicenza Libertas in due in corsia tre Giovanni Barison Mirano nuoto nella corsia quattro Simone Toso per il plant in Veneto in corsia cinque Davide Guidolin plant in Veneto nella sesta corsia Davide Gurrieri duemila uno team Alessandro Papa in sette idros in otto Francesco San Giorgio Arca Spilimbergo intanto Gatti trentadue quarantatré Giacomo Gatti che vince la serie due rimane Giovanni Carossa però col miglior corono trentuno e trenta